Ciao, eccoci qui in un nuovo video, oggi parliamo di SEO. Oggi ti lascerò 7 consigli pratici che potrai subito applicare sul tuo sito web WordPress per migliorare la tua SEO. Innanzitutto di cosa parliamo? Che cos'è la SEO? La SEO sta per Search Engine Optimization, quindi è l'ottimizzazione per i motori di ricerca. E andando sul concreto, come solitamente facciamo su questo canale, visto che nel mondo occidentale il 90% del traffico e delle ricerche avvengono su Google, è l'ottimizzazione per Google fondamentalmente. Ora, molto spesso quando prendo dei siti web di alcuni miei clienti, sia che l'abbiano fatto da soli, sia che l'abbiano fatto con un'agenzia, molto spesso non c'è una strategia SEO di base e quindi sto parlando di magari anche di SEO semantica fatta direttamente sul sito. Non sto parlando magari di SEO tecnica o di strategie di SEO, diciamo, off-site. Poi andremo un pochino più in dettaglio su queste tematiche, però mancano le basi. Ecco, già applicando le strategie di questo video potrai avere i primi frutti e chiaramente i frutti, come per tutta la SEO, li vedrai nel lungo periodo. Però è pur vero che i frutti della SEO sono anche i frutti più duraturi. Infatti dico sempre che la SEO in realtà è un investimento di lungo periodo. Perché sì, all'inizio fai fatica, ottimizzi, sembra che stai facendo un lavoro per niente, perché all'inizio chiaramente i risultati non sono immediati. Non c'è quella reward immediato che magari vedi, non so, sul post di social di turno, dove tu vedi subito, non so, mille views, dieci like. È una roba di lungo periodo, però che sicuramente rappresenta molto di più un fondamento del tuo business. Se è la prima volta che sei su questo canale, io sono Igor Papo, sono un marketer, lavoro con aziende e libri professionisti per aiutarli a crescere grazie al digitale, per aiutarli a sfruttare il digitale dal punto di vista pratico, concreto, per vedere risultati tangibili. Su questo canale cosa trovi? Trovi strategie, consigli, tutorial utili per te, imprenditore o libero professionista, per mettere in campo tu le azioni e le strategie di cui parlo, oppure per delegare meglio, no? Quindi per parlare meglio con l'agenzia di turno, per parlare con loro la stessa lingua e per soprattutto capire che cosa vuoi tu, quali sono i tuoi obiettivi e se l'agenzia o il professionista sta facendo un buon lavoro. Ecco, bando alle chiacchiere, andiamo sull'argomento del video. Allora, SEO in realtà è un argomento molto spesso ostico. Perché? Perché può essere estremamente complicata, può essere estremamente complessa e quindi molto spesso spaventa un pochino, no? Quindi è difficile che un professionista vada in profondità, a meno che non sia un professionista chiaramente specializzato in quello. Come spesso è accaduto nella mia vita professionale da marketer, io periodicamente poi vado in fissa con alcune tematiche, no? E la SEO, fino a qualche anno fa, anche per me era un argomento che sì, sapevo di che cosa si trattava, però non ho mai avuto quella cosa di andarla ad approfondire. È presente quella cosa che sai, dici sì, dovrei studiarla, dovrei approfondirla, dovrei padroneggiarla, però c'è sempre quel blocco, no? E quindi rimandi. In un certo momento della mia vita, invece, l'ho affrontato e chiaramente, come spesso mi accade, perché ho questo tipo di approccio, quando vado in fissa poi con una materia, praticamente mi studio di tutto e di più, acquisto 10 corsi, 20 libri per avere un quadro completo e quindi magari, non so, ho 6 mesi dove mi chiudo soltanto con un argomento. Comunque, fatto sta che è una roba, un investimento che sono felicissimo di aver fatto, anche se ad oggi non faccio SEO dal punto di vista, diciamo, verticale, quindi non sono un consulente SEO, sono un Digital Marketing Strategist, quindi in realtà quello che faccio è padroneggiare diverse discipline per poi metterle insieme e creare una strategia, no? Di Digital Marketing. Comunque, sono felicissimo di averla fatta perché avere la comprensione di SEO, secondo me, è molto importante. Può essere complessa, come ti dicevo, perché se andiamo, non so, per esempio, nella SEO tecnica, che è una SEO che riguarda più il codice del sito web, la natura degli URL, della struttura, proprio, diciamo, di back-end del sito web, può diventare molto complessa. Può diventare complessa, per esempio, se parliamo anche di SEO off-site, quindi fatta fuori dal sito, quindi parliamo, magari, di strategie di link building, dove, diciamo, cerchiamo di costruire una rete di link che richiamano il nostro sito. Però, diciamo, già a partire da una SEO on-site, quindi una SEO fatta direttamente sul sito, una SEO semantica, secondo me è molto importante e per farlo, a mio parere, non ci vogliono queste competenze esagerate. Ci sono due o tre cosine, due o tre accorgimenti che devi sicuramente prendere per ottimizzare le pagine e gli articoli del tuo sito web e già per avere un buon ritorno in termini di visibilità sui motori di ricerca. In ogni caso, nei sette consigli che io ti darò, ci saranno sia delle tecniche di SEO on-site, sia delle tecniche, diciamo, di SEO ibrida, che sono al limite tra on-site e off-site, e SEO tecnica. Infatti, proprio il primo consiglio di cui ti parlo è un consiglio che riguarda più, diciamo, un aspetto di SEO tecnica, anche se molto semplice. Il primo consiglio che ti do è assicurati che il protocollo di comunicazione del tuo sito web sia, abbia un certificato SSL. Di cosa parlo? Hai presente quando all'inizio del sito, dell'urdo del sito, tu hai HTTP o HTTPS, slash, due punti, slash, slash, e poi l'indirizzo del sito, WWW, eccetera, eccetera. Ecco, assicurati che alla fine di HTTP ci sia un S. Ti faccio una panoramica velocissima. Che cosa sono? Sono dei protocolli di comunicazione, fondamentalmente. L'S alla fine di HTTP che cosa assicura? Assicura che ci sia una comunicazione più sicura. Diciamo, se vogliamo utilizzare questo termine, criptata da un certificato di comunicazione ulteriore che è un SSL. E questo che cosa significa? Se tu hai un sito che ha questo tipo di certificato, innanzitutto dà un segnale agli utenti che atterrano sul sito che questo sito è, diciamo, più protetto, no? Più sicuro. D'altra parte, anche il motore di ricerca stesso ti favorisce perché vede che, ecco, hai adottato questo accorgimento che al giorno d'oggi ormai è uno standard e quindi ti favorisce anche in termini di visibilità. Un'altra cosa molto importante è ottimizza i tuoi URL. Che cosa sono gli URL? URL sono chiaramente gli indirizzi, no? Che individuano la posizione, diciamo, di una pagina, di un contenuto sul web. Ora l'ho detto a modo grossolano, impreciso, però, insomma, per rendere l'idea. Allora, se tu vai su WordPress e vai a vedere la struttura di permalink, si chiama, puoi vedere che tipo di struttura di permalink stai utilizzando sul tuo sito web. Ecco, assicurati che sia una struttura di permalink che effettivamente stai cercando. Quello che ti suggerisco io è comunque di avere una struttura tale per cui tu possa inserire sempre delle parole chiave diciamo, che ti interessano all'interno degli URL. Vai a vedere che le pagine chiave per il tuo sito web abbiano delle parole chiave che siano, non so, di di immediata comprensione che siano, diciamo, più facilmente individuabili con l'argomento di interesse. Faccio un esempio. Se hai una newsletter sul tuo sito e il tuo sito si chiama www.pincopallino.com ecco, non ti inventare cose esagerate. Magari, se devi posizionare una pagina su un URL, scrivi www.pincopallino.com slash newsletter, no? Anche per te sarà molto più facile poi lasciare i link, fare in modo che le persone possano individuare anche guardando un semplice link il contenuto del tuo sito web e chiaramente tutto questo è bene per l'utente, è bene per te, ma è bene anche per il motore di ricerca perché capirà molto meglio e molto prima il contenuto del tuo sito web e quindi lo posizionerà per parole chiave che stanno all'interno dell'URL stesso. Un altro consiglio pratico se utilizzi un sito web creato con WordPress è quello di utilizzare un plugin di ottimizzazione. Io per esempio ti consiglio SEO Yoast che praticamente è un plugin che ti dà dei suggerimenti di ottimizzazione quindi tu installi questo plugin dopo vai su modifica della tua pagina e a quel punto ti troverai praticamente questo plugin con dei semaforini che ti dice ok qui ci sono dei problemi di SEO qui ci sono dei problemi di leggibilità quindi ti dà anche dei suggerimenti che tu puoi chiaramente prendere in considerazione e quindi sei guidato anche nel miglioramento della tua SEO quindi anche se ti mancasse un concetto strategico teorico di SEO ecco già seguendo i consigli di questi plugin tu riesci a migliorare la tua SEO in modo notevole. un'altra cosa super importante è la gestione delle meta descrizioni e dei meta title che cosa sono? sono praticamente le anteprime che escono fuori nei risultati di ricerca quindi avete presente quando cercate magari un argomento su Google direttamente e escono chiaramente i siti web con dei risultati di ricerca e chiaramente ci sono delle anteprime quindi c'è un'anteprima del titolo con un'anteprima di descrizione ecco quello che vedo io che molto spesso tantissimi siti per esempio non hanno né una meta descrizione né un metatitolo e questo chiaramente è molto grave perché non permette all'utente che vede il tuo contenuto solo nei risultati di ricerca di capire effettivamente che cosa c'è scritto su quella pagina in relazione a questo discorso quindi meta descrizione meta titolo e altri diciamo parti di ottimizzazione SEO che possono essere non so il titolo della pagina l'H1 che è praticamente diciamo il primo titolo che trovi all'interno della pagina l'H2 che è praticamente il sottotitolo l'H3 che cosa sono? sono diciamo tutte righe di contenuto praticamente che tu in qualche modo devi ottimizzare quello che ti consiglio io per esempio è banalmente individuare la parola chiave che per te è importante per quella pagina e per quell'articolo inserirla sia nel meta titolo sia nella meta descrizione sia nel titolo della pagina sia chiaramente nell'H1 e nell'H2 ok? perché in questo modo riesci a dare dei segnali evidenti a Google che su quella pagina quell'argomento viene trattato in modo diciamo in modo approfondito in modo preciso e poi chiaramente devi riportare devi fare un contenuto vero e proprio quindi un paragrafo che riporta più volte quelle parole chiave e che sicuramente abbia dell'utilità quindi non facciamo quegli articoli che inseriscono 20 volte la parola chiave non so pasta fresca faccio per dire ma poi in realtà parla di tutt'altro perché ormai Google è in grado di capire e quindi ti penalizzerà e non favorirà il tuo articolo la tua pagina nei risultati di ricerca ecco mi aggancio a questo discorso per darti un altro consiglio pratico concentrati sul contenuto crea un buon contenuto un contenuto che effettivamente risponda a una domanda a chi risolva un problema a chi porti un'informazione utile quindi assicurati di avere la padronanza e la comprensione di un argomento quindi nel momento in cui tu scrivi non so la guida per aggiustare le tubature oppure per spurgare i lavandini tra l'altro in questi giorni sto pieno con questi lavandini da spurgare a casa quindi ormai mi sono fatto una certa cultura quindi se tu fai questa guida non puoi scrivermi due frasi in croce quindi cerca di fare una guida che sia veramente una guida che guidi appunto l'utente affinché questo possa risolvere il suo problema quindi il problema per cui lui si è messo di su google a cercare diciamo quell'argomento lì un'altra cosa importante è l'ottimizzazione del sito sia in termini di velocità e quindi cerchiamo di non creare contenuti super pesanti con immagini super pesanti con video caricati direttamente sul sito di centinaia di megabyte ma cerchiamo di rimanere snelli ci sono tantissimi plugin che ottimizzano le immagini per esempio e che ti aiutano anche diciamo nel caricamento di queste risorse molto spesso ecco qualche cliente mi ha detto ecco queste sono le immagini le immagini in altissima qualità voglio queste perché sono immagini belle sì è vero però se tu carichi su un sito un'immagine di 20 megabyte e questa ci metterà non so mediamente 20 secondi a caricarsi capisce bene che al di là della SEO anche come esperienza l'utente è una cosa pessima sempre per quanto riguarda l'ottimizzazione c'è il tema di mobile ormai la maggior parte dei siti soprattutto se poi facciamo per esempio attività di acquisizione traffico dei social media viene visitata proprio dal telefono quindi fai l'ottimizzazione della costruzione della tua pagina per il desktop però poi vai a vedere nella versione mobile com'è il sito e quindi addirittura nel momento in cui creare una pagina dovresti creare due versioni una versione che è ottimizzata per il desktop l'altra per il mobile e poi se vogliamo anche per il tablet un altro consiglio che ti do è link building ma sano perché sano perché in passato ci sono state delle strategie cosiddette black hat cappello nero dove si creavano questi mega network che si scambiavano tra di loro i link proprio per diciamo condividere il traffico e per dare un segnale a google che quel sito potesse essere autorevoli dopo tramite diversi aggiornamenti che google ha fatto sto parlando di google perché chiaramente come detto all'inizio di questo video il 90% di ricerche ad oggi qui in italia ma comunque in generale in occidente vengono fatte attraverso google e ecco google poi ha fatto degli aggiornamenti per cui queste tattiche vengono subito sgamate quindi non ci provare nemmeno perché poi verrai penalizzato quindi link building link building sano e in cosa consiste consiste per esempio nella nello scambio di contenuti per esempio dove tu dici ok vai dal blogger e dici senti posso scrivere un contenuto così tu hai un contenuto per il tuo sito web e posso inserire anche un link un richiamo un approfondimento al mio oppure puoi ospitare magari il contenuto di un'altra persona ecco se tu riesci a costruirti una rete di relazioni una rete di colleghi professionisti e magari dove vi scambiate dei contenuti dove vi postate i link a vicenda chiaramente con degli approfondimenti sensati con dei richiami sensati non fatti così a caso ecco questo sicuramente verrà visto di buon occhio dal primo punto di vista proprio da google dal secondo punto di vista riuscirai magari ad avere il pubblico di un'altra persona che è molto in target con il tuo perché se tu non so vai a rivolgerti a un collega ma non so magari se io andassi da un professionista SEO magari proprio dicendo guarda ti scrivo un contenuto e poi mando un richiamo a un video che sta e che è ostato sul mio sito e magari questo video qui ecco questo sarà sicuramente un contenuto utile per i suoi diciamo potenziali clienti per i suoi utenti per i suoi lettori ma allo stesso tempo io riuscirò in qualche modo a farmi conoscere da persone in target perché probabilmente le persone che leggono i suoi contenuti saranno molto vicine anche alle persone che fruiscono dei miei ok quindi è un meccanismo win-win poi chiaramente come ti dicevo all'inizio di questo video c'è tutto il discorso della SEO tecnica che riguarda più il codice e la struttura del sito web in parte qualcosa abbiamo accennato no perché non so quando parliamo di ottimizzazione della velocità del sito in parte c'entra la SEO tecnica quando parliamo non so di HTTP quindi di protocolli di comunicazione c'entra la SEO tecnica però non sono entrato in dettaglio di altri aspetti molto più complessi comunque se vuoi approfondire in giro ci sono diversi blog anche diversi contenuti video che parlano proprio di SEO tecnica e di cosa si tratta comunque se già metterai in pratica questi consigli che ti ho lasciato qui ecco otterrai quel famoso 20-80 quindi no quelle azioni fondamentali che portano la maggior parte del risultato poi se vorrai approfondire vorrai migliorare ulteriormente ci sono migliaia di aspetti che potresti ottimizzare dal punto di vista SEO però ti rivedo l'obiettivo di questo video era darti in mano alcuni consigli pratici bene se questo video ti è piaciuto condividilo magari con qualcuno a cui può essere utile e io ti invito anche a iscriverti al canale se vuoi seguirmi se non ti ho annoiato se hai trovato qualcosa di utile altrimenti guarda puoi anche non seguirmi e pazienza magari il prossimo video sarà molto più divertente e mi metterò non so magari a ballare fare un balletto di TikTok ma chissà e noi ci vediamo al prossimo video dagli tutta a presto a presto Grazie a tutti.